Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il board game ufficiale di Resident Evil 2, gioco della SFG fatto in collaborazione con Capcom, che ovviamente sono i detentori del copyright su tutto quello che riguarda Resident Evil, e nuovo gioco che ci è stato fornito dal nostro sito sponsor, Board Game Discount, che tanto vedete in sovrimpressione, primo link è in descrizione, ma di questo ve ne parlo alla fine. Ci vediamo a breve, dopo la sigla. Resident Evil 2, the board game, è un gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori, dai 14 anni in su, durata media sui 100-120 minuti a partita. È un gioco molto veloce ed è fondamentalmente non tanto un dungeon crawler, perché sì, ce l'ha un po' le meccaniche, cerca l'oggetto, ammazza i mostri, però più che altro è proprio il board game della controparte videoludica, è un gioco più action, ecco mettiamola così, dove dovrete fare gli obiettivi, ammazzare gli zombie, ma le potete anche tranquillamente evitare, perché nelle missioni non ci sarà sempre ripulisci la zona e cose del genere, ed è molto interessante perché potete giocare la missione singola, o anche rifare appunto tutta la storia di Resident Evil 2. Nella scatola base, che ora a breve vi faccio vedere, c'è tutta quanta la mappa che può comprendere zone esterne, più che altro il dipartimento di polizia, perché poi tutta la storia è ambientata lì dentro, e ci sono poche parti all'esterno, quelle più Resident Evil 3, e ci sono le miniature di Clay Redfield, Leon Kennedy e altri personaggi che abbiamo visto, c'è ad esempio Ada Wong e all'interno c'è anche William. Nella confezione base troviamo il leaker e tutto quanto, ma non troviamo ad esempio Mr. X. Mr. X viene messo in un pack, che potete comprare tranquillamente a parte, comunque ricco di miniature, fatte veramente bene, e anche il regolamento, secondo me, è molto interessante per un gioco che è riuscito veramente a ricreare le atmosfere che abbiamo amato nel videogioco. Ve lo faccio vedere a breve, però prima, unboxing. Resident Evil 2. Diceva così, eh? Diceva così. Comunque è bellissimo, ci manda veramente indietro. Ha dei ricordi, non è... Allora, io non adoro Resident Evil, faccio questa piccola premessa, poi ve l'apro, tra l'altro confezione fatta veramente bene, è bella grande, anche perché è ricca di roba. Però era un tempo in cui i creatori ci credevano davvero nei prodotti che facevano, perché gli sviluppatori di giochi erano, prima di tutto, nerd come noi. Erano gente che si metteva lì a fare cosa potrebbe vendere, ma cosa ci piacerebbe a noi stessi. Infatti i giochi, come li facevano un tempo, sì, qualcuno continua a farli, ma mi dispiace dirlo, non li fanno veramente più, con tutto l'amore e la magia che ci potevano mettere anche 15-20 anni fa. Apriamo. Regolamento di gioco, che è la versione in inglese, ed è una, ragazzi, una cavolata disumana, qui ci fa vedere tutte quante le miniature che ci sono all'interno, le carte, ma è veramente il, guardate bello anche, il morto nell'obitorio, il regolamento più facile sulla faccia della terra e c'ha pochissimissime regole, che davvero, secondo me, in 10 pagine, al massimo ti fa già il conto di tutto. In più ci sono i setting per le varie missioni, e questo qui è tipo uno scenario di partenza. Bisogna farci strada per entrare nel dipartimento di polizia della Starz. Questa è l'intro del gioco, e tra l'altro è anche bellino, stampato così da mettercelo in un quadretto, veramente spettacolare. Poi abbiamo sotto il libro delle missioni, lo scenario book, quindi a parte quelli che vi ho fatto vedere di partenza, c'è tutta quanta la lore, e tutti quanti i setup delle varie missioni che andrete ad affrontare, soprattutto con la tabella degli incontri, del fattore rischio, perché è una cosa che vi faccio vedere dopo per vedere quanti e che tipi di monstri entrano in un gioco, che mano a mano ovviamente va a incrementare. I tile di gioco, perché è una mappa componibile, tra l'altro belle resistenti, l'unica cosa forse è un pochino, un pelino troppo scuri. E poi ci sono tutti quanti i token che sono barricate, porte, contatore dei proiettili, punti ferita, insomma c'è un po' di tutto. Carte equipaggiamenti, carte, personaggi, eventi, carte a mostre e cose del genere, set di dadi, che si dividono in un dado normale da 6, dadi blu e dadi rossi. Di solito i dadi blu sono anche per schivate e cose del genere, un po' di pirulini per bloccare i contatori che ci sono nel gioco, soprattutto contatori delle munizioni e cose varie, e poi abbiamo delle miniature ragazzi spettacolari. Guardate bellissimo William, qui nell'ultima mutazione, veramente fatto spettacolare. Figure più iconiche, tipo se vi ricordate nelle fogne del dipartimento di polizia, l'uomo coccodrillo, insomma qualcosa, guardate va, spettacolare. E poi Leon e Claire. Poi tutti quanti gli zombie e i cani. Sono veramente di altissima qualità, le miniature mi piacciono veramente molto. E altra cosa mi piace è che gli zombie sono tutti in posizioni differenti. Molto molto bello. Vi faccio vedere un po' come funziona. Abbiamo fatto il setup della prima missione di partenza, tanto per farvi vedere un pochino come funziona. Comunque queste che vedete qui sono le schede dei personaggi. Abbiamo scelto ovviamente i due caratteri più iconici, i due personaggi più iconici, Claire Redfield e Leon Kennedy. E vedete che ciascun personaggio ha un'abilità speciale scritta qui, un valore di inventario, ovvero il numero di oggetti che può portare, tutti e due ne possano portare otto, un valore di schivata che vi faccio vedere successivamente per i combattimenti, e le armi che possono utilizzare. Quindi Claire può usare queste tre armi qui che sono tipo la pistola, la balestra e il fucile a pompa, e Leon può usare due tipi di pistole e un fucile a pompa. Cosa vuol dire? Che se Claire dovesse trovare una balestra la potrà utilizzare, però Leon se dovesse trovare la balestra come arma non la potrebbe utilizzare, quindi o la scarta o la passa a Claire. E qui accanto abbiamo i counter per tenere conto dei colpi sparati, che è una delle meccaniche secondo me più belline perché Resident Evil dovete, i colpi sono veramente risicati. Quindi Leon, mettiamo caso che di partenza abbia, o la trovi in giro, tanto ora vi faccio vedere, una pistola, la pistola nel caricatore ha 15 colpi, quindi dovete prendere il segnalino e metterla a 15. Ovviamente ogni volta che sparerà un colpo dovrete scalarlo, quando sarà a zero l'arma sarà scarica. Dei valori indicati sulla carta, nome dell'arma, handgun, quindi contatore con sopra scritto handgun, che le dovete andare ad assemblare, disegno ovviamente dell'arma e qui ci fa vedere la gittata dell'arma, primo valore, quindi line of sight, spara ovunque, basta che ci sia la linea di vista, il tipo di dado che tira, quindi in questo caso quest'arma qui tira soltanto un dado blu come c'è scritto, se esce una ferita sul dado, quindi una di queste che effetto fa, se ne escono due che effetto fa è sotto l'abilità speciale dell'arma, vuol dire che quest'arma può sparare anche più colpi nella stessa azione, se sparate un colpo tirate un dado, se no potete sparare fino a tre colpi nella stessa azione e a quel punto andare a tirare tutti e tre i dadi, però ovviamente dovrete scalare più munizioni, ma avrete più possibilità di fare danni. Questa qui è la mappa di partenza, la missione nostra vedete qua su in cima c'è Leon, qui c'è Claire e in questa prima missione dobbiamo arrivare qua giù dentro, farci strada per entrare dentro il dipartimento di polizia di Raccoon City della Starz, ci sono gialli zombie, i token che dobbiamo mettere sono token delle porte, qua giù, stanzi le possiamo visitare e ragazzi ve lo faremo vedere in 3D anche perché queste sarebbero le porte e questi pezzettini qui sono le mura che ti bloccano la visuale quindi vanno stampati non si possano vedere e poi in tutte queste zone qua giù vedete in questi segnalini qui questi simboli sono dove possono sponare gli zombie ci sono già degli zombie di setup di partenza in più degli oggetti che possiamo andare a pescare c'è un'azione di cercare in questo gioco non potete cercare dove volete potete cercare soltanto nelle stanze o per meglio dire nelle caselle dove c'è uno di questi token questo token qui conta come setup token A e questo è di un altro colore token B cosa vuol dire che all'inizio della partita ci sono nel mazzo equipaggiamento 8 oggetti scelti già dall'avventura che potete trovare qua sotto non sapete dove perché le dovete andare a mischiare però magari quando sapete che le armi da fuoco sono sotto il token A andate a pescare il token A lo levate e pescate dal mazzo per vedere che tipo di arma viene fuori gli equipaggiamenti che si possono trovare nell'avventura già sapete quali sono almeno che l'avventura non vi dica mettici tutto il mazzo e quel che viene viene però comunque sono nascosti e non sapete dove ora ciascun personaggio ci si muove sempre alternati tutte le azioni di Leon tutte le azioni di Claire tutte le azioni di Leon tutte le azioni di Claire quindi ciascun personaggio ha 4 azioni in queste azioni ci possiamo muovere possiamo attaccare sia a distanza che in corpo a corpo possiamo passare un oggetto a un altro personaggio se siamo nella stessa casella non adiacente nella stessa casella possiamo aprire porte o possiamo addirittura anche raccogliere un oggetto come vi ho detto precedentemente quando si va ad attaccare se l'arma ti dice come ad esempio vi ho fatto vedere prima la pistola qua su in cima a distanza di attacco line of sight questo vuol dire che può tirare ovunque basta ci sia zona di visuale le zone come vedete contornate di rosso ci stanno ci stanno ad identificare che è una zona cioè questa qui tutta una zona questa una zona questa una zona noi dobbiamo sempre andare a calcolare le zone dove non c'è niente e le zone con i muri quindi vuol dire che se Leon è qui può ipoteticamente sparare fino in fondo fino alla porta perché oltre alla porta non vede oppure potrebbe tranquillamente sparare anche a questo qua giù basta che la visuale non passi bloccata da un muro se questo fosse qui qui c'è un muro non gli potrebbe sparare perché non lo vede ma lo vedrebbe Claire quando si va a fare un'azione si guarda sempre la distanza se c'è line of sight come dire attaccato ovunque se invece avete magari un'arma da corpo a corpo tipo il pugnale col pugnale potete attaccare soltanto come vedete qui a gittata uno ci sono perché il pugnale ti consente anche di tirare a una certa distanza attaccare a distanza ma ci sono alcune armi che ci hanno scritto zero se un'arma ci ha scritto zero la dovete usare solo se siete dentro la casella col mostro non qui eh non è come zombie sight che un'arma a distanza zero vuol dire che così siete in corpo a corpo no no proprio dovete essere fisicamente nella casella col mostro perché se un'arma ti dice zero in corpo a corpo e te sei qui non lo puoi attaccare quando si va ad attaccare si consuma una o più azioni ci avete quattro azioni volete sparare quattro volte vi volete muovere quattro volte volete muoverevi due volte e poi sparare potete fare quello che volete e dovete sempre andare a tirare i dadi che sono segnati sull'arma quindi come ho detto la pistola visto che ha l'abilità di sparare più colpi se io provassi a sparare un colpo dovrei tirare un dado blu se volessi sparare due colpi nella stessa azione dovrei usarne due e poi andate a scalare dal contatore le munizioni che avete scusate questo è di Claire le munizioni che avete utilizzato dall'handgun quando arrivano a zero o c'avete un caricatore nuovo o le munizioni sono finite ricordo che i personaggi senza equipaggiamento non possono attaccare quindi se non c'avete più munizioni e non c'avete il pugnale Leon può soltanto correre come nel gioco non vi potete difendere né niente del genere quando si va a fare un attacco si tira il dado e si va ad applicare quello che c'è scritto sull'arma cosa vuol dire la pistola il coltello il pugnale sono uguali se vi esce un colpito che è questo simbolo qui voi non avete fatto danno allo zombie ma l'avete spostato quindi lo potete spostare di una casella nella direzione che volete comunque lo potete non lo avete ucciso ma l'avete spinto qua giù come nel gioco non sempre il colpo è fatale se invece vi esce un doppio colpito così gli avete fatto la pistola fa una ferita per ogni doppio colpito lo zombie ha una ferita soltanto lo zombie ha un punto ferita si muove di uno e poi questo è l'attacco che fa quindi attacca gittata a zero solo se ti ha in corpo a corpo se ti ha adiacente no se è nella stessa casella insieme a te e fa un danno poi ha un'abilità speciale e in più quando le carte evento che vi faccio vedere dovessero attivare un attacco particolare nel momento di crisi andrà a fare lo stesso attacco vedete fa sempre una ferita ma con gittata a uno quindi questa volta può anche fare tipo un balzo e afferrarti da distanza può attaccare dalla distanza comunque se io riesco a fare due con la pistola che mi fa vedere una ferita lo zombie è una ferita è ucciso ed è rimosso dalla mappa quando fate i movimenti vi muovete di una casella per ogni vostro movimento quindi se Leon volesse fare tutto il suo movimento sprecarlo tutto nei movimenti appunto nell'azione di muoversi potrebbe fare uno due tre e quattro ho fatto quattro azioni e sono arrivato qua giù ovviamente un'azione potrebbe essere aprire la porta come vi ho detto prima un'azione potrebbe essere cercare la cosa bella di questo gioco è che Leon finisce le azioni tocca a Claire poi tocca a Leon poi tocca a Claire e tutti gli altri personaggi ma è alternato c'è una fase di reazione i mostri non hanno un loro turno quando Leon ha finito tutte le sue mosse gli zombie si muovono e gli zombie si muovono nella fase di reazione del loro valore di movimento vedete ad esempio lo zombie c'ha uno ma il leaker c'ha molto di più ad esempio è molto più veloce si muovono di uno verso il personaggio a loro più vicino in una nella stessa zona o connessa questo cosa vuol dire che questo zombie qui ha connessa questa zona questa zona e questa zona come vedete e anche questa qua giù sono connesse con la zona dove si trova quindi si potrebbe spostare ovunque verso Leon o verso Claire solo quello più vicino uno due tre quattro uno due tre quindi andrebbe verso Claire se invece lo zombie fosse stato qui e Leon qui lo zombie nella fase di reazione poteva andare solo verso Claire perché in una casella connessa verso Leon non ci potrebbe andare perché ci sarebbe questa di mezzo quindi gli zombie si muovono del loro movimento verso il personaggio a loro più vicino quindi questo nel caso si muoverà verso Claire questo farà un passo avanti e questo verrà verso di qua quello sempre nella fase di reazione ma solo come vi ricordo se le caselle sono connesse con la vostra se sono troppo lontano questa cosa non la fanno quando voi andate ad attaccare i mostri a meno che non ci abbiano un'abilità speciale non possono schivare niente quindi colpito una ferita con la pistola lo sposto indietro a seconda dell'arma due ferite lo ammazzo quando lo zombie ci arriva in corpo a corpo non tirano i dadi è un po' come zombie sai quindi automaticamente vi fanno una ferita lo zombie ti arriva in corpo a corpo e ti fa una ferita vi ricordate che all'inizio vi ho detto che ciascun personaggio ha un valore di schivata che è questo qua su quindi lui è un valore di schivata di due cosa vuol dire che prende due dadi e li va a tirare questo qua sul suo valore di schivata si vanno a tirare questi dadi e si guarda cosa esce ora regola vuole che questo simbolino qui una mezza freccia mettiamola così che fa una curva vuol dire che potete schivare l'attacco di una creatura con la base di un amico con la base piccola e basta questo aspetta poi questo qui con la linea tratteggiata vuol dire che potete schivare l'attacco di una creatura con la base grande o di due creature con la base piccola questo qui vuol dire che potete schivare l'attacco di tre creature con la base piccola oppure di una creatura con la base grande quindi per farvi capire se vi arriva in corpo a corpo lo splendido William voi per schivare gli attacchi di William dovrete fare questo valore di schivata o questo qui se farete la mezza che vi ho fatto vedere all'inizio non conterà come valore e vi avrà colpito poi quando i mostri vi affrontano vi attaccano se vi fanno una ferita ovviamente l'andate a segnare che il contatore delle ferite è una figata assurda è questo qua giù questo qui è il contatore delle ferite proprio come Resident Evil che inizialmente parte da qui come nel videogioco subite una ferita va qui subite una ferita va qui qui e qui in fondo quando arrivate in fondo siete morti oppure potrebbe essere girato un'altra parte se vi fanno anche una ferita velenosa o qualcosa del genere comunque dovete tenereci sempre qua sopra vi fanno una ferita e voi andate a scalare questo è il modo in cui loro vi attaccano e ora vi faccio presente anche quando vi attaccano non solo quando arrivano in corpo a corpo nel caso abbiate due zombie in corpo a corpo nella stessa casella non attaccano tutte e due attacca sempre il mostro il cui valore è più alto degli altri praticamente quel valore che vi ho fatto vedere prima che sarebbe questo qua su nel caso ci fossero non ci può stare perché lui è grande nella stessa casella comunque se nella stessa zona ci fossero William e due zombie attaccherebbe William perché è quello più forte però gli zombie li andrebbero a dare manforte perché per ogni zombie che c'è in più voi dovete fare un risultato maggiore per salvarvi da uno bastano tutti i tipi di schivate per salvarvi da due da questa in su se invece ce ne avete tre in corpo a corpo dovete fare la schivata completa che è questa qua giù quindi per salvarvi diventa più difficile è sempre uno solo quello che attacca ed è sempre una sola la ferita che fanno anche se ce ne avete tre fanno una ferita non ne fanno tre però diventa più difficile schivare perché si danno manforte poi dopo tutto questo dopo le quattro azioni di ogni personaggio c'è il mazzo tensione che questo qua giù che nella missione principale è un mazzo soltanto verde perché va di colore verde praticamente niente giallo difficilotto rosso veramente arriva qualsiasi cosa ti arrivano anche leaker e nel mazzo tensione dovete a un certo punto andare a pescare una di queste carte e raffigurandolo con la barra della tensione che avete sul manuale delle missioni attuale quella che state giocando vi dirà appunto leggendo un po' di lore e tutto ma vi dirà anche cosa entra in campo fondamentalmente l'avete visto come girano le regole ragazzi è veramente molto facile c'è poco da tenere a mente e mi piace molto l'idea molto mi dà l'idea di non essere un gioco a turni come la maggior parte per quanto si devi fare le tue azioni poi ci sono i mostri però c'è più una fase i mostri non hanno la loro fase c'è la fase di reazione quindi sembra proprio essere un vero e proprio gioco in tempo reale c'è come te fanno una mossa e i mostri ne fanno un'altra te fanno una mossa e i mostri ne fanno un'altra soprattutto lato combattimento e è fatto veramente bene le carte sono disegnate bene non c'è tantissimi disegni però insomma rispecchiano molto lo stile le miniature non sono delle migliori sul mercato comunque secondo me sono fatte veramente molto bene e dipinte magari poi ci farà un video dipinte da mia moglie fanno la loro poca figura ne sono veramente veramente convinto ed è un gioco molto caratteristico sì forse indirizzato molto di più a chi adora la saga e la serie di Resident Evil quindi è proprio più per tutti come gioco però secondo me dove lo mettete lo mettete fate divertire però i fan veri della saga si divertiranno molto di più se devo dargli un voto gli do un 7 su 10 l'unica cosa che me l'ha fatta abbassare di un punto io chiarisco subito non sono stra fan della saga mi garba ci gioco però non sono stra fan e la cosa che mi è piaciuta un po' meno è che aveva ragione che l'ha detto prima di me che ho letto recensione avevano azzeccato proprio il punto è che i tile di gioco sono un po' troppo scuri ora va bene che il dipartimento di polizia era in penombra un gioco horror deve avere poche luce effetti più che altro d'ombra e cose del genere però insomma sono un po' troppo scuri a volte si fatica anche a riconoscere cosa c'è nel mezzo comunque sono cavolate vi farò vedere anche di questo un pimp my board game perché le porte le voglio stampate in 3D ve lo dico tutti gli oggetti i token le voglio stampate in 3D ve lo farò vedere da molta più tridimensionalità a un gioco come Resident Evil 2 soprattutto nella stazione di polizia quindi un 7 su 10 per me è meritatissimo se lo volete acquistare da vi ricordo tra l'altro versione inglese questa è la versione che vi ho fatto vedere quella inglese se lo volete acquistare da board game discount il nostro sito sponsor che trovate primo link in descrizione e in sovraimpressione ai migliori prezzi sul mercato tra l'altro se non lo trovate in lista ma mi sembra di averlo visto ma se non lo trovate in lista mandate una mail al supporto e dite vengo dal canale di Coridan questo gioco non l'avete in lista ma me lo potete fare avere comunque faranno il possibile per farvelo avere e soprattutto al miglior prezzo sul mercato non lo volete pagare tutto in contanti lo potete pagare in tre rate senza alcun tipo di finanziamento quindi ringrazio ancora una volta board game discount grazie di cuore ragazzi tra l'altro è tipo 5-6 mesi ormai che si collabora grazie un onore ed avermi fornito questa copia per la recensione fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima